eccoci ragazzi benvenuti o bentornati sul canale vedete in mano tutta sta roba perché oggi farò una ricetta vedete con fagioli aglio cipolla e con il tonno poi logicamente la paprika anche ce l'ho di là non ve la sto a far vedere i fagioli gli ho scelti questi cannellini della coppia perché sono abbastanza buoni per fare insomma una ricetta economica il tonno l'ho preso un po a caso il mare blu che comunque abbastanza decente e poi cipolla bianca e aglio normale insomma di quello bianco niente è una ricetta e ho sempre fatto io la volevo portare sul canale vi faccio vedere come la faccio la paprika serve per dargli quel gusto in più e dargli anche quel colore proprio ai fagioli che diventeranno rossi uso una paprika mi sembra dolce ora dopo la farò vedere dolce dell'euro spin che non è male quella lì e niente è una ricetta e come vi ripeto sempre fatto io quindi alla martini e ora ve la faccio vedere veramente molto buona si fa veloce e poi la potete mangiare con i pane per dargli ancora più gusto è un piatto completo veramente veloce e buono anche quindi che dire a questo punto andiamo in cucina e vi faccio vedere la procedura e poi logicamente la assaggiamo insieme ovai ci siamo portati in cucina pigliamo un tegamaccio ora eccolo qua ecco il tegame allora mettiamoci un olio extravergine d'oliva di quello buono il migliore che avete insomma io vabbè ce l'ho della cirio è extravergine 100 per cento italiano ci sa contenta di questo quello di campo l'ho terminato purtroppo allora poi uno spicchiettino di aglio vedete lo belle triturato e poi qualche fetta di cipolla vedete di quella bianca che ho fatto vedere prima io l'ho lasciato a a fette lunghe insomma no un taglio lungo vedete perfetto anzi l'olio io gli ne darei un'altra botta almeno vai e poi la paprika ora la prendo ecco la paprika dolce questa l'ho presa all'euro spi perché molto buona e poi gli si dà di patria questa non è piccante e attenzione serve per dargli il colore è quella è quella dolce che dà un aroma veramente buono e fa diventare come vi ripeto come avevo detto prima i fagioli rossi ora gli si dà una scardao sbagliato con il fornello vedete soffriggo il tutto e poi passiamo all'altra fase insomma ora comunque taglio il pezzo perché logicamente se no ci vuol troppo allora dimenticavo in cottura io ci metto anche un po d'acqua dei fagioli vedete perché gli da più gusto ora facciamo soffriggere un altro pochino e poi ci si butta i fagioli invece l'aspiratore fa un po di asino ma si dovrebbe sentire tutto allora stiamo facendo ritirare il brodo che è venuto fuori vedete eccola qui ora abbassiamo il gas perché sennò bruciamo i fagioli logicamente abbiamo levato l'acqua al suo interno tutta completamente e ora li buttiamo dentro vedete eccoci qua benissimo ora gli si dà una ramestata vediamo se pigliano anche un po il colore poi vedete il brodino ci deve rimanere questo che è buono ecco dopo averli ramestati logicamente un pochino di sale vai e poi a piacimento un po di pepe buono a questo punto niene riramesto vedete e a questo punto s'apri il tonno eccolo qua qui non c'è il brodo dentro sicché è nulla si può buttare direttamente dentro a questo punto vedete da qui fa male perché ho la telecamera proprio addosso comunque andiamo di buttarne dentro tutto ecco o vai che rimane si dà il gatto allora la fiamma è un po troppo bassa alziamola leggermente proprio appena appena eccola qua si finiscano di riscaldare un po eccoli qua la ravella ora va ottimi passaggio in anteprima e sono fatti diciamo e questo è il risultato finale diamogli una scaldatina un po più a fondo nulla a questo punto ci portiamo nell'altra stanza e li assaggiamo per bene insieme allora abbiamo finito come vi ho fatto vedere prima il piatto lo mangiamo direttamente nel tegame vedete sono veramente buoni allora assaggiamoli insieme logicamente con il cucchiaione per ramestare il soffritto sempre una ricetta buona vuole il pane logicamente venga bene poi più gli ingredienti sono buoni più più buono vi viene tanta roba l'aglio e la cipolla servono per dargli un sapore in più buoni quindi nulla un'altra cucchiaiata se vi fa piacere provateli provate questa ricetta se vi piace l'aglio così insomma l'aglio e la cipolla buttata lì la volta ogni tanto si può fare e che dire lasciate un commento qui sotto anche un like se vi fa piacere se il video vi è logicamente piaciuto e noi ci vediamo presto ai prossimi contenuti un saluto a tutti